La maggioranza consigliare, targata francese, ha ricapitalizzato Alba SRL. Il civico consesso ha approvato il riconoscimento di un debito fuori bilancio di Euro 500.000 per gli anni 2017-2018. Pertanto 382.000 euro verranno destinati alla copertura parziale delle perdite sociali e solo 118.000 euro formeranno il nuovo capitale dell'azienda municipalizzata. Il piano industriale 2019-2021, presentato dall'amministratore unico Palmerino Belardo ed allegato alla proposta di rilancio della società capitale esclusivamente comunale, prededeva un investimento per la meccanizzazione dei servizi per un milione di euro. Salva dunque l'azienda che voleva essere liquidata dalla prima cittadina e salvi soprattutto i circa 100 lavoratori che in questo modo non rischieranno più di perdere il proprio posto. Una manovra comunque incompleta a fronte della richiesta dell'amministratore unico che per il rilancio della società di raccorta dei rifiuti urbani aveva chiesto milioni di euro. I 118.000 euro, poco più del 10% di ciò che occorrebbe, appaiono sicuramente pochi a fronte delle concrete necessità.